Benvenuti e bentrovati, sono Birugi. Oggi, come avrete probabilmente letto dal titolo, facciamo l'Harry Potter tag. Questo perché Harry Potter è un'opera senza tempo, perché era un video tappabuchi. Nell'info box ci sono tutte le domande. Se volete fare a vostra volta il tag, taggo quindi tutti quelli che... Sono 30 domande, quindi sono veramente tante, e quindi non ci perdiamo in chiacchiere meschine e cominciamo. Quando e come hai conosciuto Harry e il suo mondo? Quando davano su Italia 1 i film, io avevo visto da piccola con mio padre La Pietra Filosofale, e sì, mi era piaciuto, però era finita lì la faccenda. E poi avevo visto La Camera dei Segreti. La Camera dei Segreti, cioè, mi aveva terrorizzato a morte, cioè, vi giuro, mi faceva paurissima. Ma contemporaneamente mi piaceva tantissimo, e infatti tuttora credo sia il mio preferito. Quindi direi grazie a Italia 1. 2. In che ordine hai letto i libri? Ora, questa è una domanda molto divertente, a cui ho già risposto in realtà in un video GTV su Instagram. Se volete seguirmi, il mio nome è birugi.it. Io, di base, ho iniziato con Il Calice di Fuoco, a leggere i libri, perché ce l'aveva mia cugina, e un giorno sono andata nella sua libreria e ho detto Oh, che bello, c'è Harry Potter, e ho iniziato a leggere, però, quello che c'era. E niente, l'ho iniziata a leggere e non ho più smesso. Cioè, nel senso, ho finito quello e mi sono comprata in ordine fino al quinto. Dopodiché al quinto mi sono fermata, e ho ripreso in realtà solamente quest'anno a leggere il sesto e il settimo. Diciamo che ho avuto un blocco forse dai 14 anni fino ai 22... 21... 21... 3. Qual è il tuo libro preferito e quello che non ti è piaciuto? Per molto tempo, forse, il mio preferito è stato La Camera dei Segreti, perché mi piace proprio la storia che c'è dietro, c'è tutti gli intrighi che stanno dietro La Camera dei Segreti. E odiavo particolarmente L'Ordine della Fenice, perché in realtà era il libro in cui mi ero bloccata a leggere Harry Potter, perché non mi piaceva la parte iniziale. Deve essere, diciamo, processato Harry Potter, e lo odiavo, e quindi l'ho lasciato. Poi, purtroppo, per un esame, ho dovuto riprendere... purtroppo perché non mi piaceva L'Ordine della Fenice, ho dovuto riprendere a leggere Harry Potter, e in realtà L'Ordine della Fenice mi è piaciuto tantissimo, e quindi forse è il mio preferito, anche perché è il più lungo. Forse quello che a me non mi piace è Il Prigioniero di Azkaban, cioè non ne ho un ricordo particolare. Qual è il tuo personaggio maschile preferito? Ma, secondo me, non si capisce. Di te? No, no, secondo me non si capisce. E lo so, qua tutti adesso diranno, come tutti gli altri, sì, come tutti gli altri, mi piace lui, mi piace la sua storia. A me piaceva quando era cattivo, cioè quando faceva finta di essere cattivo, cioè a me è sempre piaciuto, anzi mi piaceva quando era bastardo. Cioè mi è sempre piaciuto, indipendentemente dalla storia poi profonda di Lily e tutta la storia che effettivamente c'è dietro, cioè è the best. Ebbene, perché voi tutti non prendete appunti? Qual è il tuo personaggio femminile preferito? Ermione, vabbè, nel senso, come fa a non piacerti Ermione? Cioè è intelligente, è sempre sul pezzo, cioè probabilmente grazie a lei praticamente tutta la saga non ha senso di esistere, secondo me. Cioè nel senso, è quel quid che permette molte volte di andare avanti nelle situazioni e quindi questo è fondamentale. Però devo dire che mi è sempre piaciuta anche molto Mirtilla Malcontenta, perché da piccola mi chiamavano Mirtilla Malcontenta i miei amici. Non so nemmeno definirli amici, perché non so se è un complimento o meno. Ma poi io non assomiglio a Mirtilla Malcontenta, cioè perché? Sei, dai un voto al tuo libro preferito dall'1 al 10 e spiega il perché. Ok, allora, prendo quindi l'Ordine della Fenice come il mio preferito. All'Ordine della Fenice darei un 9, cioè non do il 10 perché, non lo so, il 10 è troppo, 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 esageru, ma no. Darei 9 però, cioè quindi sto ben alta, perché è un libro, è il libro diciamo forse da cui si scatena la storia al di fuori di Hogwarts. Contate che a me proprio la saga di Harry Potter piace perché c'è questa ciclicità, questa ripetizione di, diciamo, eventi cardini, di milestones che stanno sempre lì e che si ripetono però con un'età diversa, con una concezione, una percezione diversa di queste fasi. E quindi Hogwarts, cioè per dire, nei Doni della Morte a me è mancata tantissimo Hogwarts. Però contemporaneamente nell'Ordine della Fenice secondo me si inizia effettivamente la saga un po' più adulta, un po' più adulta, diciamo, adolescenziale, in cui Harry Potter forse veramente inizia a crescere. Si entra anche più in intimità con i personaggi. Mi è piaciuto poi perché è lunghissimo, lunghissima, quindi ero contentissima che non finisse mai. Secondo me è costruito benissimo il personaggio che forse, cioè, tra tutti è il peggiore, che è quello dell'Humbridge, cioè l'Humbridge è proprio osceno perché è reale, cioè, secondo me è un personaggio reale e nella sua realtà è veramente... cioè, metti i brevidi. Buongiorno, fanciulli! Sette, la migliore trasposizione cinematografica e la peggiore? Oddio, io non me li ricordo tutti. Allora, a me piace tantissimo la camera dei segreti, cioè, per me è la migliore, è bellissima. Anche se il prigioniero di Azkaban a livello cinematografico mi è piaciuto molto. La peggiore, forse, mi viene da dire I Doni della Morte, ma non perché non mi piace, cioè, vabbè, non è eccezionale a livello cinematografico, però ecco, contando che è un libro veramente complesso, I Doni della Morte, o forse Il Principe Mezzosangue, non lo so, comunque tra questi due, secondo me, i film si sono discostati molto dai libri. Cioè, per l'amore del cielo, alla fine raggiungono l'obiettivo, che si raggiunge anche nei libri, però ecco, ho trovato a volte, diciamo, degli espedienti cinematografici veramente inutili, che, cioè, facevi prima a non metterli, oppure li facevi come nell'originale del libro, perché tanto, cioè, ci poteva stare. Quindi, non lo so, forse, ecco, Principe Mezzosangue e I Doni della Morte non mi hanno fatto impazzire. 8. Qual è, secondo te, l'ambientazione migliore e la peggiore? Per quanto riguarda le ambientazioni, secondo me quelle di Harry Potter sono generalmente tutte veramente belle, interessanti, particolari e anche innovative. Cioè, secondo me, la Rowling le descrive in modo preciso, lasciando comunque, però, un margine di fantasia da parte del lettore, di, appunto, immaginarsi le ambientazioni, le situazioni. E forse è quello che rende anche forte il legame con i luoghi. Se devo dire, la mia ambientazione preferita è Hogwarts, cioè, Hogwarts è bellissima, cioè, ci vorrei fare veramente un salto in una scuola del genere, con le scale che si muovono. Cioè, io ho sempre avuto una fissa per le scale che ruotano. E quindi Hogwarts sicuramente è la mia preferita. Forse, allora, le parti che meno mi piacevano in generale erano quelle nella capanna di Hagrid. Ma perché Hagrid? Non mi fa impazzire come personaggio. E quindi ogni volta che c'è lui c'è proprio sto lì. Oh, che palle. Che poi, c'è proprio il cielo patatone, eh. Ah, e poi sicuramente, cioè, una cosa che mi piace un botto è la tenda di Ron. Adesso non mi ricordo se è proprio sua. Vabbè, quella che si hanno nel calice di fuoco, si hanno i doni della morte. Cioè, quello è spettacolare. Qual è il tuo Weasley preferito? Quello che non puoi neanche sentire nominare. Il mio Weasley preferito è Ron. A me piace tanto Ron. Perché è proprio, è genuino come personaggio. Cioè, mi piace. Perché è irascibile, buffo, divertente. Però, allo stesso tempo, secondo me è un personaggio da cui si può imparare molto. Soprattutto si può imparare a essere amici. Ecco, questa, secondo me, è una cosa che Ron insegna. E nonostante abbia anche i suoi momenti di, per favore, lasciatemi in pace. E a volte è anche pesante, proprio all'interno delle storie, delle situazioni. Cioè, stai lì tipo, dai, Ron, tu, non te la prendere. Non contando che i gemelli sono, Fred e George sono i best ever and ever. Forse, come non preferito, allora, a me non ha mai fatto impazzire Ginny. Ma più che altro perché, ma non è antipatia, proprio, cioè, non mi interessa Ginny come personaggio. No, forse il fratello, quello che si sposa con Fleur. Come si chiama? Boh, non mi ricordo più. E lui, ma più che altro perché non lo trovo utile. Cioè, no, sì, non mi è mai interessato. E per dire, mi piace Persi, Persi mi fa spaccare. Cioè, questo suo essere controcorrente nella famiglia è adorabile. Lo adoro. 10. Qual è la tua creatura fantastica preferita? I test, no. I test, albo, non lo so, è una creatura fantastica. Mi piacciono quelli. 11. Qual è il tuo mangiamorte preferito? A me piace Lucius, cioè, Lucius Malpoi mi piace tanto, non lo so perché. Però è un personaggio figo, cioè, è un personaggio particolare. Anche lui forse tra tutti, uno dei più realistici, molto più realistico di Harry Potter. Harry Potter mi sta antipatico, ad esempio. 12. Se fossi ad Hogwarts, quale sarebbe il tuo passatempo magico preferito? Passatempo? Ma, l'ho detto prima, a me piacerebbe solamente stare sulle scale che si muovono, così. Magari stare tipo sulle scale e farmi portare da loro in qualche posto segreto. Oppure stare continuamente ad usare la mappa del malandrino per trovare, cioè, per spiare tipo cosa fanno le persone. O meglio ancora, la camera delle necessità. Wow, no, la camera delle necessità top. Quale tra i big seven è il tuo preferito? Allora, tralasciando quelli che ho già detto, Pachock mi è sempre piaciuto tantissimo, perché era quel personaggio in cui non mi rivedevo. Cioè, non mi rivedo in Pachock, cioè, io non sono, diciamo, sempre con la testa fra le nuvole un po' scordinato nel fare le cose, nell'avere un'idea sulla propria esistenza. Però, probabilmente sarei diventata amica di una persona così e mi sarebbe tanto piaciuto poter stare accanto a una persona del genere. Genuina, mi piace Pachock, Neville, è figo. Però anche Luna, Luna mi piace molto. Luna è un personaggio molto profondo, molto particolare, che anche, su cui anche si può molto ragionare, per quanto riguarda, diciamo, i concetti di inclusione, diciamo, del diverso, perché Luna è un po' la diversa, ecco, all'interno di Hogwarts in generale. Quindi anche Luna. Quattordici. Qual è il tuo professore di Hogwarts preferito? Allora, il mio professore preferito è sempre stato Gilderoy, perché mi fa spaccare da ridere. Cioè, è proprio strano come personaggio, anche quando poi lo si rivede nei libri successivi, in situazioni ben diverse rispetto a quella di Hogwarts. È proprio un personaggio bello, mi piace, è stupido, è egoista, egocentrico, ma mi ha sempre fatto morire da ridere, quindi Gilderoy. Certo che è strano questo posto, non trovate. Dove vi qui? Quindici. Qual è il tuo incantesimo magico preferito? Oddio, allora, a me piace molto Alomora, lo trovo anche molto utile. Mi piaceva molto Aguamenti, perché proprio mi piace, come si dice, Aguamenti, è figo. Accio, è intelligente come cosa, e anche, vabbè, l'expecto patrono. Perché, boh, non lo so, il mio patrono è un delfino. Ho fatto il test su Pottermore. Quindi sarebbe figo far uscire un delfino dalla propria pacchetta magica. Si dice, hai qualche libro su Harry Potter non scritto dalla Rowling? Se sì, quale? No. Non ce li ho. Diciasse, hai mai partecipato a un raduno potteriano? Dove? Allora, no, raduno potteriano no, però quando sono andata, cioè quando vai nelle fiere, o sono andata a Luca Comics, cioè alla fine, diciamo che Harry Potter è un grande insieme di, cioè un fandom che ovviamente va sempre, va alla grande, e quasi sempre la maggior parte delle persone sono vestite, o comunque vanno con l'idea di essere rappresentanti del Potter World. Diciotto, hai qualche gadget potteriano o cosa? Oddio, ho questa schifezza che sarebbe la burro birra, che mi fa veramente schifo, cioè l'ho comprata giusto perché pensavo fosse buona, non l'ho mai bevuta, potrei buttarla, cioè mi terrei ovviamente la bottiglia. Poi di altro in realtà non mi ricordo. 19. Qual è la tua citazione preferita? Che belle, queste domande facili, assolutamente fattibili. Allora, io mi ricordo che c'era una citazione, credo, nella Camera dei Segreti, che faceva Mirti la malcontenta, in cui diceva a Harry che se nel caso fosse morto, lei era assolutamente contenta di ospitarlo nel suo gabinetto. Non lo so, mi è sempre piaciuta come frase, è carina. Poi in generale, vabbè, tutte le frasi di Albus Silente sono belle, importanti e profonde, quindi in realtà qualsiasi parola provenga dalla bocca di quell'uomo, saggio uomo, sono appunto molto belle. Mi ricordo soprattutto, mi piacevano quelle riguardanti il concetto della morte, mi ricordo che ce n'era tipo una. Il vero, cioè colui che veramente riesce a sconfiggere la morte è colui che non ha paura di morire, una cosa del genere era, che era molto bella, oppure ad esempio ce n'era un'altra che è il fatto che l'uomo non ha paura della morte in sé, quanto più di quello che non sa, diciamo, di cosa effettivamente comporta la morte, tipo l'oblio, le tenebre, non me lo ricordo. E poi mi ricordo che ce n'era una molto molto bella, cioè importante secondo me, che era quella del fatto che gli adulti sbagliano quando sottovalutano i giovani. E secondo me è una frase fulcro all'interno di tutta la saga di Harry Potter, perché alla fine Harry Potter è un romanzo di formazione, può essere rapportato all'Emilio di Rousseau, concettualmente è la storia di un ragazzo che da bambino diventa adolescente fino a diventare adulto. E secondo me in questa frase si va a racchiudere un po' tutto il senso effettivo della saga. Chi avresti voluto che non morisse? Chi avresti lasciato che morisse? Fred? Fred mi ha dispiaciuto veramente tanto, cioè ero proprio lì. Ma più che altro perché muore in un modo... Non lo so, non così... Dovano dare più spazio a Fred. Anche Malocchio Moody, cioè non mi è piaciuto come hanno fatto morire Moody, perché muore così, cioè un po' risicata ecco la sua morte. Secondo me era interessante come personaggio da continuare a mantenere. e però posso dire che mi è piaciuta molto la morte di... Oddio... Dico Dalisha. Perché effettivamente c'è in quella situazione un po' un certo senso di redenzione del personaggio. E secondo me tra tutti è una delle morti più interessanti, perché forse è l'unico personaggio che effettivamente... Vediamo cambiare, nonostante per qualche millisecondo ecco... Vabbè, non volevo che morisse Silente. Allora, secondo me è giusto che sia morto. Secondo me ci sta, cioè doveva morire, così come doveva morire Piton, secondo me. Però entrambi mi dispiace molto ecco che siano morti. Sì, li avrei fatti vivere ancora. Ah, chi avrei lasciato morire? Eh, Ginny e Harry Potter. 21. Ti aspettavi un finale diverso? Se sì, come l'avevi immaginato? Allora, qui, cioè, è un po' difficile, nel senso che... Purtroppo io ho letto gli ultimi due libri solamente recentemente e quindi ero già stata indottrinata dai film, perché, cioè, quelli li ho guardati. Quindi sapevo come andava a finire, nonostante le diversità, libro, film, comunque il finale alla fine è quello ecco. Quindi, di base, sapevo già come andava a finire e contemporaneamente non mi ricordo, mentre vedevo il film, come pensavo finisse la storia. Ero abbastanza certa che non morisse Harry Potter, mio malgrado. Quando guardavi film non mi sentivo che ci fosse, diciamo, la rivelazione di Piton. Quello non me l'aspettavo. Nei libri, invece, non mi aspettavo la storia di Silente. Il suo passato me lo immaginavo, diciamo, burrascoso, un po' particolare, ma non così tanto. Cioè, non che Silente comunque fosse un personaggio con un lato anche negativo veramente importante, ecco, alla fine, come soluzione finale di tutto il personaggio. 22. Qual è la tua materia preferita, quella che non studieresti volentieri? Secondo me, non mi piacerebbe fare divinazione, ma perché non mi interessa proprio. Cioè, indipendente dal fatto che i professori, cioè, che la Koeman non sia una grande professoressa, cioè, è proprio una cosa che non mi interessa. E... vabbè, cioè, difesa contro le arti oscure, ma sempre, per sempre. E comunque... e... quello. 23. Cosa sceglieresti tra un gufo, un gatto, un rospo? Un gufo? Ma c'è, non so, pure la domanda. Un rospo. 24. In che casa vorresti essere smistato? Smistato. In quale T rifiuteresti di andare? Allora, per Pottermore sono Grifondoro. E in realtà mi va bene, cioè, io ho un po' questo animo del protagonista, del coraggio, ecco. E quindi mi ci rivedo molto in Grifondoro, però mi vedo anche molto in Corvo Nero, perché sono intelligente. Non mi piacerebbe andare in Serpe Verde. Per dire, il tasso rosso è quella parte, diciamo, dell'escluso, un po' il tasso rosso, che però, secondo me, è quello in cui poi effettivamente c'è più potenziale. Cioè, più anche di Corvo Nero e di Grifondoro, quindi in realtà mi piace anche il tasso rosso. Serpe Verde non... non mi piace da un punto di vista del concetto dell'elitarietà, diciamo, della casata di base. Cioè, è tipo come se fosse la scuola gentiliana, per chi sa che cos'è la scuola gentiliana. È come se fosse rimasto, tipo, fosse rimasto indietro come sistema, quello dei Serpe Verde, diciamo, di smistamento, rispetto invece alle altre case. 24. No, 25. Sei iscritta a Pottermore? Ti piace il sito? Sì, sono iscritta, ma non lo uso mai, quindi non saprei dirti. 26. Cosa pensi di quelli che dicono Harry Potter è solo un libro? Che è vero, perché è un libro, e... di base io comunque consiglio a qualsiasi persona, di qualsiasi età, di leggerlo. Soprattutto il leggerlo pian piano che si avanza con l'età insieme a Harry Potter, secondo me quello... cioè, proprio quel top di gamma, cercando di non spoilerarsi niente attraverso i film. Sì, è solo un libro, però è un libro di formazione. Un libro di formazione è di un personaggio che però, credo, no, anzi, sono sicura, posso aiutare anche nella formazione di tante persone. 27. Hai letto anche gli altri libri di Harry? Animali fantastici dove trovarli, Quidditch attraverso i secoli, Fiabe di Bedelbardo. Allora, avevo iniziato Animali... ho letto un po' di Animali fantastici e un po' di Quidditch attraverso i secoli, ma non mi interessano. 28. Qual è il dono della morte preferito? Oddio! No, no, il mantello, il mantello dell'immisibilità, cioè, per sempre. 29. Qual è la tua coppia preferita della saga? Quella che non approvi. Coppia preferita... Ma di quelli che si formano in realtà a me non me ne frega niente, cioè, non mi interessavano. 29. Mi piacciono Arthur e Molly, Weasley, mi fanno troppo ridere. 29. Ah, tutta la parte con Cho, Harry Potter e Cho, cioè, quella parte era proprio brutta, noiosa, non mi piaceva. 30. Cho mi stava proprio antipatica e quindi, no, cioè, proprio, ma come... da eliminare come personaggio, quindi quella coppia non mi piaceva. 31. Però era molto interessante vedere un Harry Potter, diciamo, a inizi... 32. Iniziava a relazionarsi con gli amori e che cosa combinava. 30. Ultima. Se potessi parlare con zia Cho, cosa le diresti? 32. Non lo so, cioè, tipo, le direi di approfondire alcune tematiche, alcune storie, non andare avanti, ecco, con i figli, perché non se ne frega niente a nessuno dei figli, 32. Però magari riprendere dei personaggi e parlare un po' più in profondo, diciamo, della loro... della loro storia, anche passata. 32. E quindi, ovviamente, entra in gioco la parte di Silente, perché, cioè, la parte di Silente è super interessante, affascinante e nei libri c'è troppo poco, ecco, secondo me. 33. Niente, quindi, questo era il tag di Harry Potter. 34. A me si stanno scaricando le cose, quindi, se volete rifare il tag, sentitevi liberi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!